Martedì 27 settembre, buongiorno a tutti e bentrovati come ogni giorno puntuali alle 7.35 del mattino per la nostra prima diretta di giornata, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è ancora il tema del risultato del voto in primo piano oggi sulla stampa nazionale con i dati oggi definitivi e anche le prime ripercussioni per quanto riguarda in particolare sui vertici dei partiti politici dei risultati del voto. Il Corriere della Sera oggi titola così in apertura letta lascia la guida del PD. Resto fino al congresso. Meloni lavora al governo, serietà, nessun compromesso. Ecco la prima pagina del Corriere della Sera che poi dà spazio ancora una foto di Giorgia Meloni e ha una grafica che riassume la composizione del nuovo Parlamento di Camera e Senato con 112 seggi al centro-destra al Senato, 42 al centro-sinistra, 28 al Movimento 5 Stelle e 9 seggi a Azione e Italia Viva. Alla Camera vediamo 237 seggi al centro-destra, 84 al centro-sinistra, 52 al Movimento 5 Stelle e 21 ad Azione Italia Viva. Ancora vediamo di spalla le interviste ad alcuni leader politici da Silvio Berlusconi che dice populismo vigiliamo noi a Matteo Renzi che assicura opposizione dura ma civile. E poi nel taglio centrale ancora all'analisi del voto con la partita del Nord esodo da Lega a Fratelli d'Italia e poi il Movimento 5 Stelle che ha perso 6,4 milioni di voti. Andiamo anche sulla prima di Repubblica. Il caso Salvini scrive Repubblica in apertura. Il leader del carroccio primo ostacolo per Meloni non lo vuole al Viminale e Zaia apre il processo interno alla Lega serve riflessione e seria. La premier francese Borne dice vigileremo su diritti e aborto in Italia. Lo spread sale a 242 punti. La BCE dice non copriremo errori dei governi. E poi scrive Repubblica il dramma del PD Letta lascia la guida tocca a una nuova generazione. E' questa. Nell'apertura di Repubblica poi ci sono anche l'editoriale di Maurizio Molinari che scrive così sovranismo italiano sulla scia della netta affermazione ottenuta nelle urne da Fratelli d'Italia. Il nostro paese avrà verosimilmente per la prima volta nella storia repubblicana un partito sovranista alla guida della maggioranza di governo. E ciò pone il dubbio su quali siano le radici, i valori e le intenzioni del sovranismo italiano. italiano. Ancora vediamo anche la stampa. Costituzione vecchia PNRR da rifare. Fratelli d'Italia insiste sulla riforma e prepara il governo. Panetta o siniscalco al tesoro. Pecoraro all'interno. E poi al centrodestra 235 deputati e 112 senatori. Fratelli d'Italia chiede aiuto a Draghi sulla legge di bilancio. Scrive la stampa nell'occhiello del titolo di apertura. E poi a centropagina vediamo ancora una foto di Giorgia Meloni con il cartello grazie Italia pianeta Meloni da Tolkien a Orban. Viaggio nel Pantheon della prima candidata a Palazzo Chigi. Di spalla anche qui vediamo. Letta si fa da parte al congresso sfida Bonaccini Schlein. Dalla prima della stampa vediamo il manifesto che apre proprio sul Partito Democratico, su Letta che lancia il congresso dicendo che non si ricandiderà. Il titolo è Sfracelli d'Italia. È un giorno triste per il paese e per l'Europa. All'indomani della sconfitta annunciata Letta anticipa il congresso e fa un passo indietro. Non mi ricandido. Serve un nuovo PD. Meloni lavora al governo e cerca sponde istituzionali. Salvini stracciato nelle urne. Tira dritto. Ancora il Fatto Quotidiano. Partito Democratico 5 Stelle. Letta si ritira e Conte si allarga. Resa dei conti scrive il Fatto. Il Dem lascia. Il 5 Stelle si candida a guidare l'opposizione. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del giornale. Il titolo di apertura. Belli ciao. La sinistra rosica scrive il giornale. Letta annuncia le dimissioni. Di Maio fa flopper e sta fuori dal Parlamento. Intanto i VIP si disperano e denunciano su internet una dittatura inesistente. Assiste degli Stati Uniti. Blinken ansiosi di lavorare col nuovo governo. Vediamo anche Libero come rosicano. Scrive Libero da Saviano a Lerner. Il pianto degli sconfitti è musica. Dice Libero. Trombati a raffica. Sinistra. Cirinna a cuccia. Di Maio a lavorare. Ciliegina sulla torta. Schifani a valanga alle regionali in Sicilia. PD staccato di 25 punti. Vediamo anche la verità. Il tempo della Meloni scrive la verità in apertura. Dopo 11 anni di governi non scelti dagli elettori. Il centrodestra ottiene un'evidente maggioranza. 44%. Fratelli d'Italia vola oltre il 25%. Tiene bene Forza Italia. Cede la Lega. La coalizione di centrosinistra si ferma intorno al 26%. Risultato molto deludente per Calenda e Renzi. I grillini superano il 15%. Cresce ancora l'astensionismo. hanno votato appena 6 a 20 diritto su 10. E poi a centropagina il PD sotto il 20% apre il processo. Letta non ne azzecca una. Scrive la verità. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del foglio. Il foglio oggi nel taglio alto scrive così Bisogna saper perdere. Letta lo sa fare con la malinconia delle piccole cose. Salvini invece no. Si autoconsola e dà la colpa agli altri. A centropagina la sfida di Meloni è il governo Novox. Scrive il foglio. Andiamo anche sulla prima pagina del gazzettino. Vediamo anche qui i titoli di apertura con uno sguardo a nord-est. Flop Lega, processo a Salvini. Zaia dice risultato deludente. Serve serietà. Si ascoltino anche le posizioni più critiche. Il segretario dice sono insoddisfatto ma resto, queste parole di Salvini, marcato dati drammatici, subito il congresso della Lega. Ancora vediamo anche le altre notizie sulla prima pagina del gazzettino. Governo senza spartizioni, sceglieremo solo i migliori. Queste le parole di Guido Crosetto, consigliere di Giorgia Meloni, che dice con noi conti al sicuro. E poi ci sono le prime prove d'intesa. Giorgetti e la russa per Camera e Senato. Questa è la prima pagina del gazzettino. Torneremo più tardi anche sulle pagine del gazzettino del Friuli. Adesso rimanendo sulla stampa nazionale, vediamo anche la prima pagina del Sole 24 Ore. In questo caso si guarda già alla manovra di bilancio, uno dei primi impegni che il nuovo governo e il nuovo Parlamento dovrà portare a termine. Per la manovra servono 40 miliardi le sfide del nuovo governo. Frenata del PIL, inflazione e tassi in crescita riducono gli spazi di oltre 20 miliardi. Spese obbligate su caro energia, carburanti, cuneo fiscale, pensioni e statali. Ancora vediamo per quanto riguarda la legge di bilancio, un'apertura da parte dell'Unione Europea. 45 giorni di proroga, termine a fine novembre. E poi vediamo anche Bruxelles che attende il governo alla prova europeista. Gli Stati Uniti sostegno all'Italia atlantista, da Putin, Orban e Le Pen il plauso dei sovranisti. Queste le reazioni al voto anche in ambito internazionale. Anche sulle 24 ore vediamo spazio alle fibrillazioni all'interno dei partiti che sono usciti sconfitti da queste elezioni. Nel PD è già partita la corsa al Dopoletta, ma lui mori nella Lega, Salvini che dice io resto. Chiudiamo il sole 24 ore e vediamo anche la Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere anche quali sono i temi sportivi caldi nella giornata di oggi. C'è la Nazionale che ieri sera ha vinto e ha battuto l'Ungheria e raggiunge la fase finale delle Final Four. Però c'è il rimpianto per non essere riusciti a qualificarsi per il Mondiale. Italia gioia amara, titola la Gazzetta. Ancora Raspadori e Di Marco Gol. Vinciamo anche in Ungheria 2-0, però Mancini manca. Il Mondiale sarà dura a superare dicembre. Donna Rumma parla di una ferita aperta. Chiudiamo la Gazzetta, anche qui poi torneremo sulle pagine della Rosia per dare un'occhiata anche agli articoli che parlano di Udinese e apriamo adesso la parentesi dedicata alla stampa locale. Vediamo il Messaggero Veneto di Udine in apertura. Torniamo a parlare dei risultati delle elezioni. Al centro-destra 9 su 12 in Friuli-Venezia-Giulia eletti 5 parlamentari di Fratelli d'Italia, 4 della Lega, 2 dell'EPD e 1 di Azione. E qui vediamo appunto a centro pagina le foto degli eletti al Senato. Luca Ciriani, Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia, Marco Dreosto della Lega e Tatiana Roic del Partito Democratico. Alla Camera invece Walter Rizzetto, Emanuele Loperfido e Nicole Matteoni per Fratelli d'Italia, Massimo Panizzut, Vagna Gava e Graziano Pizzimenti per la Lega, Deborah Seracchiani per il PD, Isabella De Monte per quanto riguarda il terzo polo. Vediamo di spalla, al centro-sinistra finisce doppiato, crollano Carroccio e Movimento 5 Stelle. L'amarezza Demme, il segretario Shauli è fuori per pochi voti, scrive il messaggero Veneto. E poi ancora vediamo i commenti delle categorie economiche, dall'industria al commercio servono subito risposte concrete. Allora andiamo a sentire proprio le voci, il commento di questi risultati elettorali da parte di Confindustria Udine, in particolare nel servizio di Monica Nardini. È positivo che il risultato delle elezioni garantisca al Paese un governo stabile. Auspichiamo che per i ministeri chiave il nuovo governo decida in base alla competenza. Così il presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Gian Pietro Benedetti, rispetto alle elezioni politiche. La situazione, afferma in una nota, è impegnativa e negli ultimi anni non si è sostenuto il fare e l'intraprendere, che di fatto sono buona parte del PIL ed è il PIL che sostiene un social welfare adeguato. Promettere senza essere nelle condizioni di mantenere, senza creare le premesse per poter crescere, è facile, continua ancora Benedetti, ma porta poco lontano. A ottobre, afferma il presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, potremmo valutare se la struttura del nuovo governo sarà la migliore possibile per affrontare al meglio una situazione che, tra l'impatto energetico, il dumb turn economico, la gestione inadeguata degli ultimi anni, riduzione della burocrazia, il merito, immigrazione qualificata, sostegno all'intraprendere, un'educazione che consideri le soft skills, una sanità efficiente, la famiglia, la natalità, richiede più che mai un equilibrio responsabile tra diritti e doveri. E sul risultato delle elezioni si è espresso anche il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti. La maggioranza è netta, afferma in una nota. A essa gli auguri per affrontare le emergenze con cui il Paese si sta misurando e dovrà misurarsi anche nei prossimi mesi. Il cresciuto astensionismo non è un buon segnale, continua Tilatti. Agli operatori politici il compito di capire come, nonostante l'offerta, sia stato possibile perdere quasi il 10% di elettori anche in Friuli Venezia Giulia. Rimanendo sulle pagine del Messaggero Veneto andiamo a vedere l'editoriale di Paolo Mosanghini che titola così Nuovi scenari per le regionali e le comunali. Le elezioni amministrative in primavera potenzialmente potrebbero trasformare anche lo scenario politico del Friuli Venezia Giulia, Confratelli d'Italia che è la prima forza politica del Paese con ottimi risultati anche nella nostra regione. C'è da chiedersi se questa vittoria schiacciante cambierà le sorti della politica friulana. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante le rassicurazioni, potrebbe avviare le trattative per rinnovare i volti della guida alle amministrazioni locali. La partita è aperta. E poi vediamo l'articolo che prosegue. Andiamo a vedere le pagine di apertura dei fascicoli locali del Messaggero Veneto a cominciare dalla pagina di Pordenone dove le elezioni, i risultati di queste elezioni porteranno a un cambio in giunta dopo l'elezione a Roma di Loperfido. Ecco il titolo. Loperfido a Roma cambia la giunta. nuovo vice sindaco di Fratelli d'Italia per Ciriani da riassegnare le deleghe a bilancio commercio e sicurezza. Il capogruppo Ribetti dice scelta interna. E poi vediamo anche qui tutto l'articolo. Andiamo adesso sulle pagine di Udine del Messaggero Veneto e vediamo anche qui i titoli di apertura. In questo caso non c'è la politica ma c'è la cronaca con questo infortunio. Cade dalla scala in un cantiere. È grave. Un uomo di 79 anni voleva recuperare dei materiali in un palazzo di via Liruti 18 dove sta lavorando il figlio. E allora andiamo a vedere questa e le altre notizie di cronaca della giornata di ieri nelle Flash News. Un sessantenne è rimasto ferito nella mattinata Udine cadendo da una scala in un cantiere lungo un tratto stradale nei pressi di Piazza a Primo Maggio. Come è riferito dalla Sores, la struttura operativa regionale emergenza sanitaria, l'uomo ha perso conoscenza a seguito di un trauma alla testa. Un'ambulanza lo ha trasportato in condizioni molto serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto, oltre al personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Udine. Primo giorno d'impegno nel comune marchigiano di Ostra per i volontari della protezione civile del Friuli Venezia Giulia in aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. Partiti da Palmanova hanno raggiunto la località nella tarda serata di domenica. Dopo aver trascorso la notte nella palestra comunale, i volontari hanno iniziato a operare dalle 8 della mattina raggiungendo una zona residenziale ricoperta da uno spesso strato di fango. Per pulire e mettere in sicurezza le strade, i marciapiedi e gli accessi alle case hanno riversato sull'asfalto nel corso della giornata diversi migliaia di litri d'acqua. Attivato questo lunedì un soccorso senza chiamata diretta della persona coinvolta in un incidente stradale. L'esito, grazie al coordinamento tra la centrale operativa a cui si appoggia una nota casa automobilistica, la centrale NUE di Varese e quella della Sores del Friuli Venezia Giulia, intervenuta a seguito di un allarme inviato dai sensori di un'auto rimasta coinvolta in un incidente nel comune di Martignacco. Uno scontro laterale si è saputo poi, conseguente al distacco di un carrello da un altro mezzo. Non ricevendo risposta attraverso sistema audio interno alla vettura, la prima centrale ha contattato il NUE di Varese che a sua volta si è rivolto alla Sores del Friuli Venezia Giulia che ha inviato sul posto un'ambulanza e attivato i carabinieri di Udine. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Torniamo sul gazzettino e vediamo il dorso del Friuli, in apertura anche qui la politica, Fratelli d'Italia ribalta la Lega, titola il gazzettino. In una notte cambiano gli equilibri in regione. Il partito della Meloni travolge tutti e mette all'angolo gli alleati. La ricandidatura di Fedriga non corre rischi, ma il senatore Luca Ciriani mette le mani avanti e dice adesso pesiamo più noi. E anche qui ci sono le reazioni del mondo dell'industria e dell'artigianato. Confindustria Friuli Venezia Giulia fissa già il check per il nuovo governo. Grandi sfide a ottobre, valuteremo. Ancora le analisi del voto. Vediamo, le donne si mettono a disposizione e portano a casa voti. E poi per il senatore Ciriani, il ministero Ciriani adesso è più vicino a un ruolo da ministro nel governo. Di spalla il terzo polo soffia il seggio ai 5 stelle. E poi per quanto riguarda il Partito Democratico, il segretario Sciauri dice discutiamo senza faide interne. Nel taglio basso, anche qui la cronaca, cade dalla scala grave in ospedale. E poi a Udine la polizia soccorre due anziane smarrite nella serata di domenica. Per lo sport il nuovo Pereira sempre più decisivo, scrive il gazzettino, nel basket, il torneo croato della Liburnia Cup lancia la gesteco. Tra poco andremo anche sulle pagine sportive dei quotidiani locali. Adesso facciamo un passaggio anche sulla prima del piccolo per chiudere il nostro giro sui quotidiani locali. E vediamo in apertura la politica. con il centrodestra al 49,8%. In Friuli-Venezia-Giulia la coalizione vincente si prende 9 parlamentari su 12. Fratelli d'Italia al 31,3%, Lega al 10,9%. E adesso lo sport, torniamo sulle pagine del Messaggero Veneto di Udine. In questo caso cominciamo da lì la nostra rassegna stampa sportiva e vediamo in apertura del fascicolo sportivo proprio l'Udinese. Udinese, ecco le trappole da evitare. Dalla pressione di giocare la ripresa a Verona lunedì dopo tutte le altre al calendario complicato Atalanta, Lazio e Toro. alla difesa all'osso, questi i pericoli che l'Udinese dovrà affrontare appunto in questi giorni alla ripresa del campionato. La preparazione è già iniziata anche se ci sono ancora dei bianconeri impegnati con le nazionali. Vediamo appunto di spalla Peressa New York contro la Giamaica e Bosse in Corea. e questa è la prima pagina del fascicolo sportivo del Messaggero Veneto che nel taglio basso poi parla anche della nazionale Under 21. Con Udoji che è il talismano dell'Under 21 esce al 45esimo e il Giappone pareggia. Vediamo anche le pagine successive dove si parla di nazionale. Ecco qua il titolo, Raspadori e Di Marco, l'Italia batte l'Ungheria e giocherà la Final Four. 2-0 il risultato finale. E poi ancora vediamo il Pordenone, due rientri prima del Tour de Force. In una settimana Renate, Imolese in Coppa e Arzignano. Di Carlo conta di riavere subito i difensori Aieti e Bassoli. Questi appunto i due rientri. Per quanto riguarda invece il basket, vediamo per la palacanestro Udine a più può essere esposito la soluzione dei problemi. L'ala la scorsa stagione è stato un gioio importante per Udine. In un quintetto con tre lunghi sarà decisivo pure quest'anno. E oggi doppia seduta di allenamento per la palacanestro Udine. C'è anche Brisco che punta a Ferrara. Di spalla invece la Gesteco. Ecco la roadmap che va verso l'esordio. Abbonati oltre quota 800. E queste le novità per quanto riguarda Cividale. Torniamo a parlare di Udinese con il gazzettino. Allora andiamo a vedere proprio le pagine sportive del gazzettino del Friuli. E vediamo il titolo principale. Il nuovo Pereira a tutta fascia. Scrive il gazzettino. Il Tuku argentino percorre 10 chilometri e 600 metri ogni 90 minuti. Classe e dinamismo. Lunedì a Verona taglierà il traguardo delle 150 partite giocate in bianco-nero. E poi c'è un ricorso storico di due anni fa. Due stagioni fa il Bentegodi una falsa partenza ricorda il gazzettino. Nel taglio basso 17 anni dopo Lisbona torna il sogno Champions. Anche gli illustri ex Zico e Sanchez professano ottimismo. Una cavalcata che fu interrotta dal Barcellona. Questo è un ricordo più piacevole, più positivo. E poi vediamo nella pagina successiva questo intervento di Paron Pozzo a Forbes. Da piccolo tifoso a proprietario. Il Paron ha raccontato alla rivista la lunga storia del suo amore per i colori bianco-neri. L'obiettivo del club sarà sempre quello di scoprire talenti in giro per il mondo. E poi c'è appunto il caso del Woodford raccontato sempre in questo articolo. Oltre 200 milioni di euro prodotti dalle valorizzazioni. Il nostro modello di scouting rimane tra i migliori. Ha sottolineato il Paron. E a proposito di Udinese torniamo anche sulla gazzetta. Vediamo anche qui le parole in questo caso di mister De Canio. Che De Canio sa come si fa, scrive la gazzetta. De Canio che dice L'Udinese è potente e ricorda la mia, sottile, una garanzia. La via super ricorda quello del 2000-2001. Il tecnico di allora dice Questa squadra è solida e ha alternative di livello. E poi c'è tutta l'intervista sulla gazzetta dello sport che lascio a voi leggere. Andiamo anche sulle prime di Corriere dello Sport. È tutto sport per chiudere il nostro giro sulle prime dei quotidiani nazionali. C'è l'Italia in primo piano sul Corriere dello Sport. Che rimpianto, titolo al Corriere. Italia alle Final Four di Nations. L'eliminazione mondiale brucia di più. Battuta 2-0 l'Ungheria. Gli azzurri chiudono in testa al girone. Decidono Raspadori e Di Marco. Mancini raggiunge Olanda e Croazia. E dice fino a dicembre Sarà dura, dovremo scavallare il Qatar. Stasera la quarta finalista. E poi vediamo Dolce Amaro Budapest. Scrive ancora il Corriere dello Sport. Per quanto riguarda il mercato, come avevamo visto anche sulla gazzetta, gli inglesi piombano su Leao Milano assediato. Chelsea e City danno la caccia all'asso portoghese. E poi vediamo una notizia che incrocia sport e politica con l'elezione di Lotito al Senato. Lotito che dice non mollo la Lazio. Vediamo anche il Tutto Sport. Grana mondiale, scrive il Tutto Sport. L'Argentina ci sta provando con Paredes, Di Maria e gli altri. Vuole i giocatori prima, facendo saltare loro l'ultima partita di novembre. È il primo effetto di Qatar 2022 sui campionati che condizionerà l'atteggiamento di molti stranieri. E poi anche qui la Nazionale nel taglio alto. Jack lo ha rifatto, Italia alle finali. Raspadori colpisce l'Ungheria dopo l'Inghilterra. Di Marco trova il primo gol azzurro. Donnarumma para tutto, 2-0 senza il Mondiale. La Nations League ci regala un sorriso, scrive Tutto Sport. E Tutto Sport chiude questa nostra rassegna stampa di oggi. Andiamo a vedere adesso, prima di salutarci, anche cosa ci attende in questo martedì sul nostro canale. quali gli appuntamenti di oggi, quello fisso delle 12 con il Tg in diretta e poi ancora pomeriggio calcio alle 16, l'informazione in diretta, così come alle 19 con il Tg Sport che apre la fascia serale dell'informazione. Alle 19.15 il Tg News 24, alle 19.45 il focus su Pordenone. Alle 21.15 in comune, dedicato a Tolmezzo. Alle 22.00 uno speciale elezioni con il commento dei leader chiude la giornata come sempre alle 22.30 al Tg della notte. È tutto, vi lascio al Meteo, alle previsioni del tempo, augurandovi ancora una buona giornata. Amici di Udinese TV, ben ritrovati da Fabio D'Alio di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì un impulso instabile in alta quota attraversa le regioni del nord, provocando anche sul Friuli Venezia Giulia, specie inizio giornata una mattinata instabile con la possibilità per acquazioni qualche temporale non solo sui settori montuosi, ma occasionalmente anche sulle pianure, con tendenza poi a un miglioramento nella seconda parte del giorno. Vediamo più nel dettaglio il tempo sul Friuli, che sarà, come dicevo, piuttosto instabile in mattinata, con il rischio per pioggia, acquazioni e anche qualche fenomeno temporalesco. Clima che resta piuttosto fresco sia di notte ma anche di giorno, con punte che non andranno oltre i 20 gradi. Sulla Venezia Giulia anche qui la situazione resta piuttosto movimentata, con una spiccata variabilità a tratti instabile in mattinata, con ancora la possibilità per qualche temporale, fin sulla costa, tendenza poi dal pomeriggio a qualche apertura in più. Ma per tutti i dettagli consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.